Beccati in flagrante, la Polizia di Stato del Commissariato di Manduria ha denunciato in stato di libertà quattro giovani manduriani, ritenuti presunti responsabili del reato di accensione ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. Nell'ambito dell'attività di contrasto al dilagante fenomeno, il personale del Commissariato di Manduria ha condotto mirate indagini, volte all'individuazione dei responsabili di tali episodi pericolosi ed illegali che sarebbero consueti. La piazza è quella centrale della città messapica ed è mezzanotte quando le immagini dei sistemi di videosorveglianza collocate nei pressi del teatro di smesso Ideal incastrano i giovani durante l'accensione dei fuochi pirotecnici. Non la prima volta, questo sarebbe il quarto, di una serie di episodi verificatosi sempre in nottata nella centralissima Garibaldi e nei dintorni del centro storico nell'arco degli ultimi mesi. Una consuetudine che ha divampato le lamentele dei residenti e dell'opinione pubblica. Un'altra accensione pirotecnica si era verificata lo scorso 22 dicembre per i festeggiamenti di un compleanno che aveva infastidito un commerciante. Una brutta vicenda perché il festeggiato, un pregiudicato del posto, per ripicca aveva esploso diversi colpi di pistola al gestore accusandolo di avergli rovinato il compleanno. Giovane poi arrestato dalla polizia. Intanto continuano da parte del personale del locale commissariato le indagini per individuare i responsabili di altri simili episodi.